buongiorno e benvenuti in questo nuovo video tre anni sono passati da quando su questo canale ho pubblicato il mio primo video in assoluto e anche quest'anno mi ritrovo in un'altra mappa parkour per fare il solito video annuale dove si fa un piccolo recap di quello che è successo questo video sarà abbastanza corto perché non ho molto da dire però per fortuna sono tornato operativo tra un po comincerò di nuovo a creare contenuti e soprattutto finalmente ho compiuto i 16 anni un tempo fa ho comprato una moto e e probabilmente ogni tanto ci pubblicherò qualche video durante l'ultimo periodo non ho pubblicato molti video perché non avevo molte idee e nemmeno molta voglia quindi se avete qualche idea scrivetemela nei commenti perché non so più quali tipologie di giochi portare mannaggia se ce la facessi probabilmente la pubblicazione regolare sarà annullata e continuerò a pubblicare video quando ne avrò voglia e quando troverò qualcosa di divertente da fare detto questo noi ci vediamo presto con un nuovo video ciao